Ehi, fa calore! Stai iniziando, vero? Aspetta, devo girare! Ciao! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, siamo di casetta Negramante. Siamo in macchina e ci stiamo regando al centro commerciale Campania per l'evento firma copie con i Negramaro. E che facciamo oggi? Ragazzi, ci siamo persi per Sant'Arpino. Cioè, è stato sorrendo. E oggi faremo un vlog e vi illustreremo la nostra giornata per poi caricarlo su un canale YouTube. Quindi ci aggiorniamo dopo, appena arriviamo al centro commerciale. Ciao! 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 Vedo mo le luci sciole si ci pensi mai E' un tempo si misura in brividi Io sai che qui Fondo mon eroico di niente E' solo così E' facile per me nascomegi Un c'è più distinzione Come esco non è mignone Oh questo c'è un ball Bagno Eccolo Però con il strisciare Il mondo anche se fa male Non è perposto ne lasciare E' ancora presto per partire E' quello che poteva fare Non vogliamo raccontare C'è un'esperienza che non mi era mai capitata Cioè ho 22 anni Ok da 4 anni la patente Però la finanza non mi ha fermato Quindi la prima cosa mi è chiesto di aprire il cofano Che io ho detto ho qualcuno morto E non lo so O sinceramente non so che cazzo mi combina Però fortunatamente siamo più o meno a 2-3 km dal Campania E siamo quasi arrivati Mi sono fatto una sudata Però ci siamo Ci siamo Arrivati al centro Campania Per si Per poi riprendersi Ma fai come si gira qua Wow Ah hai capito Qua si scattano le fotografie mentre fai il video Però non c'è il tasto che giro la cazzo di Ecco E... E... Parcheggio del Campania Aspettiamo delle amiche Ed entriamo Dove stanno? Enza il telefono Enza... E' già da in collante Mi brucia a mano Ma non ho capito una E' già da in collante Ma non ho capito una Ma non ho capito una Trafinati, c'è strade e gente che c'è tutto sotto, stiamo a posto. Dove stai? Dove stai? Aspetta un secondo, metti il video, metti il video, metti il video. Io sto in video da... Salutate il video, salutate il video. Ciao, ok. È il video, sono il video. È il video del video. Sì, come? Perché è che luce allo su. Què? La folla che c'è. La folla che c'è qui è da aspettare. Di J-AX, eh? Già? 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 Che goro mi sentença a migliore che valuta più volle? Ciao. Ehm, siamo in fila. veramente stiamo aspettando gli altri amici nei gramanti caserta nei gramante e diciamo che c'è abbastanza gente però diciamo che anche abbastanza presto quindi tra poco si sarà il pienone sicuramente ma che l'acqua fammi capire che fai da giuliano o dagli altri E l'onore E l'onore Grazie. 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 Ciao ragazzi. Siamo da 2 ore in un'ora. Non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più. Il città sta partendo. Tutti incatastati. Sì. Ma tra poco saremo pronti noi. Ciao. Ragazzi siamo pronti. Stiamo per entrare nel declamare. Pronti salutate. Ciao. Siamo pronti. Ci vediamo tra poco ragazzi. È stato un piacere. Ci odiano di spegnere i cellulari. Impossibile, impossibile. Ora non lo facciamo vedere. Zitti ragazzi. Ragazzi, il mio cuore sta scendendo. Il cuore. Salutateli tutti con calma. Ragazzi, io sto macchiando il cellulare. Non vi preoccupate però vi farò fare una sorpresa da Giuliano. Ho il cuore a mille. Salutate, salutate ragazzi. Ragazzi suoi, come state? Siamo qua finalmente. Proprio quando devo entrare io. Ci date due minuti per andare. No, Giuliano. No, vabbè, vabbè. Stiamo... Fagli andare. Fagli andare. Fagli andare. Dopo siamo più tempo. Dopo siamo più tempo però. Ragazzi, intanto stiamo venendo dal vicino di Giuliano San Giorgi. Ragazzi, vicino di Giuliano San Giorgi. Lascia un passo. Si è aperta, sai, attenta tu. Vi chiamate che tu si è aperta, sai, attenta tu. Ragazzi, salutate! Salute! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ragazzi, abbiamo dovuto stoppare il video. Siamo aspettando il rientro di Negramaro, siamo i prossimi, ci hanno offerto il vino, alla fine di attenta sarebbero dovuti arrivare ma ancora devono arrivare, li avvitiamo tra poco quando arrivano. Siamo arrivati in grande paese, sono i prossimi. Ciao Giuliano, saluta Simone, Anzio, Casetto, Criu, Casetto Anigramasto.